L'ultimo appuntamento domani alle 21 su Peter e Gabriele alla Casa della Musica per la rassegna Controtempi organizzata da Lune Nuove Materi Off e Comune. Sarà Peter Gabriele protagonista dell'ultimo appuntamento di Controtempi domani sera alla Casa della Musica. Tra Agnelli e Passioni, questo è il titolo dell'incontro condotto da Riccardo Venturella con ospite d'eccezione Gigi Cavallicocchi. Insieme con l'aiuto di videoproiezioni saranno ripercorse le fasi salienti della carriera del grande artista inglese che dopo il difficile abbandono dai Genesis elimina maschere e trucchi per ricominciare da capo con un percorso musicale complesso e articolato con pochi ma fidati collaboratori. Prima in sordina poi con grande successo Gabriele raggiungerà nuove vette artistico-musicali portando anche a compimento un rivoluzionario progetto atteso a valorizzare la musica terzomondista e diventando uno dei musicisti più amati e stimati tra quegli usciti dell'anni 70. Nell'89 infatti Gabriele fonda la Real World Records etichetta discografica che promuove la musica etnica e la world music con la quale contribuisce a far conoscere al pubblico le opere di musicisti provenienti da ogni parte del pianeta con una particolare attenzione al terzo mondo. L'appuntamento è per domani alle 21 alla Casa della Musica. La serata è ingresso gratuito.